Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo E in arrivo aria più fresca dal nord Europa che spazzera via il gran caldo che alleggia nel Mediterraneo Da svariate settimane l'aria fresca irromperà, con maggior precisione, tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì Per quanto riguarda quindi questo giovedì, tempo instabile, quindi avremo un peggioramento sull'Abruzzo Soprattutto tra pomeriggio e sera, i primi refoli freschi alle alte quote daranno luogo a dei temporali Anche intensi nelle aree interne, quindi in montagna, con possibilità di pioggia, carattere di nubifragio E anche qualche isolata forte grandinata Poi entro sera i fenomeni tenderanno a estendersi anche alle coste, se fu di modo più disorganizzato Con entità minore Nel frattempo avremo anche un sensibile calo delle temperature Notate le massime ancora molto alte, fino a 34-35 gradi Poi in serata, temperature in vero e proprio crollo, soprattutto in tarda sera Valori minimi che saranno registrati in serata saranno compresi generalmente tra i 18 e i 24 gradi Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni